La forza scorre potente nella mia famiglia, in mio padre, in me e in mia sorella. Leia! Luke, ho bisogno che qualcuno mi aiuti a capire il mio ruolo in tutto questo. Fate poco sul bersaglio e non risparmiate colpi! Distruggere i segni, noi dobbiamo. Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Devo finire ciò che Luke ha iniziato. Veniamo con te. Alto là! Non muovetevi! Guardali! Bel colpo, ragazzo! Uno su un milione! Salve! Oggi la ribellione è rinata. E io non sarò l'ultimo Jedi. Ricorda, la forza sarà con te. Sempre. Grazie a tutti.